l'influenza del campo magnetico su un raggio di luce accendo la luce si sente questa telegrafica questo è un maglietto al neodinio l'oscillatore oscilla a questa bassissima frequenza l'amplificatore sente l'interferenza ora spengo l'oscillatore e questo è il residuo di eronzio mentre questo è la variazione introdotta dal magnete come si vedeva l'amplificatore risponde bene a un hertz e questa è la variazione prodotta dal magnete al neodinio risponde l'amplificatore risponde l'amplificatore risponde l'amplificatore risponde l'amplificatore